Grazie, buongiorno a tutti. Io ho preparato qualche nota su slide ma non so se seguirò completamente perché le domande e la discussione di prima mi ha un po' stimolato. Allora io vengo da Pisa, sono professoressa della scuola superiore Sant'Anna, sono anche startupper per la scuola Sant'Anna mi obbliga a dirlo e ho investito pesantemente nella robotica indossabile, ho una società che in questo momento sta crescendo che produce robot per l'assistenza al cammino e sono anche nel consiglio di amministrazione di Piaggio e quindi mi occupo di mobilità e parlamentare e quindi ho varie prospettive per guardare a questa rivoluzione industriale. Questo spiega perché oltre a studiare i robot, il loro controllo, le tecnologie, ne vedo anche le loro implicazioni sociali e quindi le problematiche che possono creare nella società e il loro riflesso sull'istruzione, sull'istruzione scolastica ma anche universitaria e il loro rapporto con il lavoro e quindi il nuovo rapporto che ci sarà fra capitale e lavoro in questa quarta rivoluzione industriale. Allora prima di tutto la prima domanda a cui cerco di dare una risposta è perché oggi parliamo così tanto di robotica e perché parliamo di quarta rivoluzione industriale. Ci sono motivi oggettivi, uno sicuramente è che la terza rivoluzione industriale, quella prevalentemente legata alla microelettronica sta arrivando a un punto in cui probabilmente non progredirà così come ha progredito negli ultimi vent'anni. In particolare si parla di fine della legge di Moore. La legge di Moore è una legge che ha in qualche modo dato la cadenza al passo dell'innovazione tecnologica nel campo della microelettronica, ogni due anni raddoppia la densità di transistori, diminuisce la minima dimensione del transistor e quindi anche i player industriali vengono scremati mano a mano che il passo aumenta perché l'investimento tecnologico nel procedere, nel progredire di questa tecnologia è sempre più alto e la concentrazione in pochi gruppi detentori delle tecnologie abilitanti aumenta sempre di più. Questa è la caratterizzazione della terza rivoluzione industriale. Certamente la robotica è connessa alla microelettronica perché il miglioramento delle prestazioni dei robot, dei loro controlli e anche la capacità in qualche modo di sentire quindi di avere sensori, attuatori e quello che si chiamava l'embedded control è fondamentale ed è legato alla microelettronica. Quindi in questa fase anche se i colleghi microelettronici, gli ingegneri elettronici sostengono che ancora la legge di Moore non è finita e c'è ancora spazio per la verticalizzazione delle tecnologie per tanti aspetti, in realtà sappiamo che siamo arrivati a un punto in cui probabilmente abbiamo raggiunto la maturazione di queste tecnologie e quindi cosa succede? Il capitale cosiddetto cerca nuovi ambiti di investimento. Quali saranno le tecnologie abilitanti del futuro? quali tecnologie domineranno? Perché chi possiederà queste tecnologie dominerà il mercato. In parallelo cosa sta succedendo? Da un punto di vista sociale la discontinuità che ci sarà probabilmente di cui ancora non siamo certi, noi parliamo di industria 4.0 ma non è un'osservazione degli storici dell'economia industriale, è il nome di un programma di chi governi perché il capitale, i governi, la politica guardano avanti e dicono probabilmente ci sarà una discontinuità tecnologica e investiamo soprattutto i tedeschi, le industrie tedesche per essere dominatori di questa discontinuità tecnologica e quindi chiamiamo un programma industria 4.0 e anticipiamo la rivoluzione industriale senza sapere esattamente come e quale sarà. Allora nel frattempo cosa succede? La robotica in realtà vive una seconda trasformazione e cercheremo di capire qual è la seconda trasformazione che la robotica sta vivendo. Quindi da una parte i programmi che guardano avanti, Internet of Things, connettere miliardi e miliardi, molto più che le persone, di oggetti nello spazio, generare un nuovo spazio. Il cyberspace che è stato decretato dalla Nato l'anno scorso uno spazio paragonabile al mare e all'aria, cioè un teatro anche di combattimento dove si combatterà nel cyberspace per dominare. Questo è stato proprio scritto in un position paper della Nato decretando il fatto che nel futuro ci si combatterà anche nel cyberspace. Quindi questa nuova evoluzione si investirà. Per esempio la Commissione europea con i programmi quadro investe sul quantum tech, pensando che siamo di fronte alla seconda rivoluzione quantistica e che probabilmente la microelettronica del futuro sarà il quantum tech. Io sono nell'advisory board di questo grande programma che è a guida prevalentemente tedesca ma in cui anche gli italiani sono abbastanza presenti e sono presenti tutti i più grandi principali gruppi che finora hanno investito sulla microelettronica. Sarà il quantum tech? Saranno i materiali? Sarà il biotech? Quali saranno? I programmi di ricerca le agenzie investono e vedono e investono sulla ricerca. Quindi c'è anche una nuova vita della ricerca, soprattutto e anche in Italia abbiamo assistito a tutto questo. Abbiamo visto investimenti in robotica molto importanti, per esempio l'Istituto Italiano di Tecnologia, il gruppo Dompea ha investito in una start-up. Vediamo anche imprese italiane reluttanti a investire in ricerca che in parte grazie ai programmi del governo di Industria 4.0, in parte perché capiscono che il momento è critico, hanno ricominciato a investire in ricerca. Nel frattempo la robotica, vediamo cosa sta facendo. La robotica si occupa di imitare i principi del vivente, per esempio la soft robotics, avete visto che il tema di maturità di italiano era addirittura sulla soft robotics e sulla creatività nuova che si sta rivelando nella robotica. E in qualche modo l'inclusione nei temi di maturità ha un significato profondo sociale in Italia, significa che si riconosce che questa è una tematica importante al pari di tante altre e che c'è una forte domanda da parte della popolazione, dei cittadini, dell'istituzione per comprenderla meglio e si capisce che questo è un tema di cui dobbiamo discutere. Quindi la robotica, la robotica umanoide o la robotica soft, l'imitazione per esempio dei pesci, dei polipi, di organismi, di serpenti, di lamprede, di tanti e quindi l'investigazione e la contemplazione della natura. Quindi imitando i microorganismi o gli organismi viventi si imita la natura e si comprende. Attenzione perché fino a poco tempo fa era considerata ricerca fondamentale, oggi sappiamo che vedremo anche in queste slide che per esempio nella robotica collaborativa le skin dei robot che permettono al robot di stare a fianco dell'operaio per la prima volta dopo tanti anni sono basate su principi di bioispirazione, nel senso che la ricerca in campo biomedico ha avuto una ricaduta diretta sulla robotica industriale e rappresentando un breakthrough nell'evoluzione dei robot che adesso possono stare vicino all'operaio anche grazie alla skin, alla pelle che hanno sviluppato. E quindi non è tutta ricerca fondamentale ma c'è anche un contenuto profondo. Non solo, ma si parla di assistenza personale. Noi siamo in una società che invecchia, l'età media dei lavoratori negli impianti manifatturieri ha raggiunto i 44 anni, ci sono impianti FCA in Italia che hanno 60 anni di età media, altri ne hanno 30, ma insomma è molto varia, ma sicuramente sappiamo che sia in Italia che in Germania l'età media sta superando i 45 anni e che ci si aspetta nel futuro un peggioramento ulteriore. Questo significa che non solo la popolazione avrà bisogno di maggiore assistenza personale, assistenza al cammino, assistenza per una vita autonoma, per passare in modo migliore gli ultimi anni della propria vita, ma probabilmente ci sarà anche una necessità nei nostri impianti manifatturieri di assistere proprio il lavoratore che con un'età media molto alta, con uno spostamento del limite di pensionamento, dovrà essere supportato di fronte a lavori usuranti. Quindi se da una parte si parla di fine del lavoro, di basic income, di dare la possibilità di andare a casa e di non lavorare, dall'altra sappiamo che nelle nostre fabbriche se non aiutiamo i nostri lavoratori probabilmente andremo in una crisi e quindi sviluppiamo robot per il supporto funzionale. Infine la robotica educativa che era anche oggetto dei nostri temi. Si parlava di ricaduta sull'istruzione legata a questo progresso della rivoluzione industriale, sicuramente noi sappiamo che da parte delle imprese per affrontare il lavoro del futuro saranno necessarie competenze trasversali, saper lavorare in gruppo, saper acquisire informazioni per prendere scelte e fare scelte e prendere decisioni autonomamente, saper relazionare con persone di diversa cultura, di diversa etnia, con diversi mondi, saper raccogliere le informazioni in modo ragionato e prendere decisioni. Questo è uno delle skill ma c'è anche la creatività di cui anche prima abbiamo parlato. Dov'è che le macchine e l'uomo possono competere davvero? È nel settore della creatività dove fino ad ora in questa specie di antropizzazione delle macchine, in competizione fra l'umano e la macchina che acquisisce sempre più capacità di competere, fa il radiologo, fa sicuramente al posto del cassiere in banca o svolge tanti mestieri, ma in un... e quindi obbliga in qualche modo gli umani a essere sempre più preparati, avere skill sempre più elevate in una continua gara. Io imparo di più e supero la macchina, nel frattempo la macchina mi raggiunge, ma sicuramente la creatività è ancora un settore in cui noi pensiamo di poter essere competitivi. Quindi la cosa più sbagliata che possiamo fare è dire che non è più il tempo di studiare le scienze umane o di, come dire, avere una cultura umanistica profonda, perché, come giustamente è stato fatto osservare prima, per leggere questo mondo e questi problemi, e i problemi che ora vedremo, le competenze umanistiche sono fondamentali. Cos'è che a me piace osservare di questa rivoluzione industriale? E cos'è, qual è stato il salto di qualità della robotica? Il salto di qualità della robotica ha tanti aspetti, ma sicuramente la combinazione con il cloud può essere un elemento decisivo nel permettere ai robot di avere maggiore autonomia. Per anni noi abbiamo lavorato sui robot parlando di embedded control, cioè il robot intelligente con un controllore a bordo, sempre più autonomo, sempre più distribuito nella società, e in grado di fare e prendere decisioni autonomamente. Adesso la tendenza è esattamente opposta. Il cloud ha collettivizzato l'esperienza percettiva, cioè la possibilità di costruire delle banche dati accessibili, quando avremo una tecnologia, per esempio la banda larga in Italia, senza latenza, e avere la possibilità di accedere alle informazioni acquisite dagli altri robot. Trasmettersi il learning a vicenda, quindi la possibilità di accelerare i tempi di learning, i tempi di riprogrammazione è una qualità essenziale che fino ad ora aveva penalizzato i robot. E in questo momento la combinazione, a mio avviso, della robotica con il cloud che dà tempo computazionale, dà dati, dà possibilità di immagazzinare le informazioni e di condividerle, potrà essere decisiva per permettere ai robot il salto di qualità. Qual è il salto di qualità? Il primo, e questo è un robot collaborativo, è andare vicino alla persona. Questo è un robot collaborativo Comao, con una pelle artificiale realizzata in collaborazione con il mio gruppo della Scuola Superiore Sant'Anna, quindi faccio anche pubblicità a un'azienda italiana, oltre che alla Scuola Superiore Sant'Anna, ma oggi siamo al tempo della robotica collaborativa. Prima i robot erano dinosauri, la terza rivoluzione industriale vedeva i robot chiusi, chi ha visitato degli impianti manifatturieri, o chi possiede impianti manifatturieri, sa che il robot è un dinosauro chiuso, molto potente, dinamicamente molto forte, ma in una zona inaccessibile, lontano dal lavoratore. Il lavoratore supervisiona, non si avvicina quando il robot si muove. La novità di quest'anno, cioè dell'anno scorso, è stato il pensare invece a un robot leggero, flessibile, che va a fianco del lavoratore, che si ferma quando tocca il lavoratore, e che quindi collabora nel suo compito. Questo è un salto di qualità. Qual è il prossimo salto di qualità? Io sono un bioingegnere, presidente bioingegneri italiani, e vi dico che il prossimo salto di qualità sarà il robot dentro di noi, indossato come un esoscheletro, oppure nella protesi. Ieri sera ho presentato in Piazza dei Cavalieri a Pisa, quindi la piazza principale di fronte alla scuola normale, il film iRobot, in una rassegna organizzata alla scuola normale. Sono venute mille persone. iRobot è un film del 2004, liberamente tratto dalla raccolta di Asimov iRobot, ispirato, ma non necessariamente attinente. L'interesse e la bellezza di questo film, che è un film da cassetta, quindi da blockbuster, a suo tempo si diceva, non è un film particolarmente profondo, ma la bellezza è l'anticipazione di tutti i temi di cui stiamo parlando adesso, incluso la guida autonoma. Addirittura il protagonista, Wilbur Smith, viene rimproverato perché guida la sua macchina invece di lasciare che la guida autonoma guidi per lui. e il protagonista riesce a vincere la sua battaglia perché in realtà con le macchine ribelli, ma in realtà è e riesce a battere loro perché ha una protesi di mano superforte che è tratta da un robot e quindi ha un braccio robotico, quindi non è del tutto umano, ma è parzialmente umano e parzialmente artificiale. Ecco qual è il salto di qualità che Asimov forse non aveva capito fino in fondo, ma che il film iRobot sicuramente capisce ed è il robot dentro noi, le protesi, gli organi artificiali, l'occhio artificiale, l'orecchio bionico che già è commerciale, l'occhio bionico lo sta diventando e quindi tecnologie che parzialmente in qualche modo riproducono, potenziano, alimentano le nostre capacità. Ecco perché a mio avviso oggi la robotica è importante. Sicuramente cambieranno i nostri impianti, quindi questo è un esempio di collaborazione sempre con Piaggio, ma ve ne sono molti altri che sono, questo è semplicemente paradigmatico, quindi il lavoratore non viene sostituito, ma viene coadiuvato. In parte i task di assemblaggio, i task fini, in cui fino ad ora i robot hanno sicuramente perso la battaglia con gli umani, perché se vedete anche tutte le linee di assemblaggio, l'ultima parte è quella in cui davvero è richiesto il lavoro umano non viene fatto direttamente da persone, quindi mestieri usuranti, sicuramente un ambito in cui invece il robot vincerà e ha già vinto e non c'è più competizione è la logistica, quindi il trasporto, la distribuzione, lo smistamento di materiali è ormai, io credo, dominio dei robot. la robotica collaborativa e gli esoscheletri e quindi i sistemi indossabili, soprattutto in rapporto ai lavoratori, è ormai un settore completamente esploso. Questo è uno dei tanti special issue di noi ricercatori. Eravamo a Singapore, la conferenza principale di robotica, circa 20 giorni fa, tutti quanti parlavano degli esoscheletri e dei lavoratori come elemento competitivo per il futuro della robotica. Quindi il primo passaggio, cioè venire addosso a noi, probabilmente noi pensavamo alle persone disabili, io personalmente ho ancora questo come target in mente perché io sono bioingegnere, perché io penso è la mia inclinazione naturale, ma so bene che il vero mercato e questo probabilmente avrà delle ricadute sicuramente anche sui disabili, ma il vero mercato è quello del lavoro, del lavoro manufatturiero ed è lì che probabilmente si svilupperanno i veri esoscheletri. È partito con il soldato e quindi il primo esoscheletro è stato pensato in campo militare con sostanzialmente un fallimento, poi c'è stata una ricaduta in campo medicale, in questo momento il settore più importante è quello manufatturiero. Ma cosa sta succedendo? Oltre a questo la robotica sta entrando a casa nostra. Questo è il vero passaggio che c'è anche nel film iRobot e sicuramente nel Asimov lo aveva previsto. Chi vuole rileggersi la raccolta iRobot si legga il primo racconto della raccolta iRobot in cui un bambino, una bambina si affeziona a un robot babysitter e tutte le problematiche della mamma, del padre, del padre e anche della compagnia che produce i robot viene in discussione e pensare che è stato scritto negli anni 50 è assolutamente straordinario. La socializzazione della robotica a mio avviso è uno dei passaggi fondamentali di questa rivoluzione industriale. Per concludere la mia carrellata è sicuramente legata a un aspetto che è prototipale e che è io utilizzo una metafora che è quella del cavallo di Troia il cavallo di Troia per entrare nella società la guida autonoma perché la guida autonoma rivoluziona un settore che per noi è importante è importante per noi è importante per gli Stati Uniti è importante per la Germania è importante per tanti paesi manifatturieri per il Giappone per la Corea se si cambia e si altera il modello di business del settore automobilistico si altera l'economia dei paesi per il numero di persone impiegate comunque non lo devo spiegare a voi che lo sapete meglio di me e quindi un settore che è sostanzialmente rimasto piatto non innovativo per anni lo stesso motore a scoppio la stessa auto elettrica che ha fatto fatica a diciamo a emergere è stato innovato profondamente dall'idea della guida autonoma la guida autonoma è importante per due motivi primo perché altera il mondo il settore automobilistico e obbliga gruppi come FCA a essere noi ce l'abbiamo vicini a essere e a mettersi in relazione con questa innovazione in qualche modo subendola sostanzialmente subendola da Google da Uber da tutti quelli che hanno investito lo stesso vale per Toyota lo stesso vale per Ford non sono certo partite Ford Toyota Fiat Chrysler con l'innovazione della guida autonoma l'hanno subita e la stanno introiettando ha fatto fuori tutti i miei colleghi robotici in giro per il mondo che sparivano dalle conferenze scientifiche e entravano nei centri di ricerca per l'innovazione nella guida autonoma e l'Italia è un leader perché a Parma abbiamo una delle più importanti diciamo centri di competenza nel settore della guida autonoma e in più c'è un altro fattore porta la robotica per strada in mezzo a noi cosa che per ora per legge è impossibile chi vuole mettere un robot per strada sa che non può farlo non può assicurarlo ma soprattutto è fuori legge se noi e tutti i governi stanno lavorando incluso quello italiano ma anche quello americano quello tedesco tutti stanno cercando di essere all'avanguardia Boris Johnson aveva proposto addirittura quando era sindaco di Londra di fare di Londra il parco dove si provava la guida autonoma ci sono intere cittadine negli Stati Uniti dedicate solo a questo perché la guida autonoma è importante perché sarà il primo banco di prova per la automazione robotica non lo so come si chiamerà probabilmente la continueremo a chiamare robotica per l'intelligenza artificiale nella società vicino a noi per strada e provocherà la realizzazione di un quadro giuridico che permetterà l'introduzione delle macchine nella società esattamente come Asimov aveva previsto e come tutti noi in questo momento discutiamo allora noi ingegneri lo affrontiamo da un punto di vista pragmatico quali sono le regole il setting il controllo i sensori i filosofi speculano da un punto di vista teorico gli etici la chiesa il Vaticano io sono stata un innumerevole numero di volte a discutere queste cose anche in conferenze con teologi con filosofi morali perché effettivamente apre una serie di problematiche infinite ma nella pratica avremo che mentre diciamo mia mamma per guardare le ricette apriva un libro di cucina io guardavo magari una trasmissione televisiva mia figlia scarica una app sullo smartphone la signora del futuro avrà un robot che cucinerà insieme a lei un robot collaborativo sociale che la intratterrà la aiuterà le spiegherà dolcemente come si fanno le operazioni e questo sarà un ulteriore cambio generazionale quindi per chiudere il ciclo e arrivare al messaggio di questa presentazione sicuramente la rivoluzione industriale la terza rivoluzione industriale ha svuotato gli impianti manufatturieri di persone è entrata con la robotica di servizio ci ha permesso di esplorare lo spazio di andare sotto il mare depositare cavi sottomarini di andare nelle sale di riabilitazione per permettere la riabilitazione dell'arto superiore inferiore ha rivoluzionato la chirurgia e l'esempio della chirurgia della robotica chirurgica è uno dei più belli esempi in cui sono stati i clienti cioè i pazienti a trascinare i chirurghi verso un paradigma che i chirurghi rifiutavano per cui è stato un modello di innovazione interessantissimo infine con iRobot che Rodney Brooks ha già molto esplorato ma su cui c'è un mercato praticamente infinito nel quale anche noi come italiani potremmo dire qualcosa la robotica entra non solo in casa nostra ma al posto nostro per esempio a fare le pulizie di casa con rumba grazie 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 a tutti